Crivello rischia ancora, rimasto ultimo uomo Crivello, sbaglia il pallone, poi incontro vede Ceravola, a mio avviso è in fuorigioco, invece per i guardalini è tutto regolare, la Ternana va con 4 contro 1, attenzione alla Schanzi, in mezzo c'è Gavazzi, cercato Gavazzi che è solo e non può sbagliare, è il gol dell'1 a 0 per la Ternana con Gavazzi dopo 20 minuti, ripartenza fulminante dei Rossoverdi che vanno in vantaggio al minuto 20 del primo tempo con l'errore di Crivello, il terzo consecutivo e con la posizione di partenza di Ceravolo tutta da verificare, 1 a 0 per la Ternana che apre le marcature, gol sbagliato di là, gol subito di qua, questo il tocco in avanti ma la palla la riprende il giocatore che l'ha toccata quindi non c'è problema, poi segna Gavazzi e va bene